Buona domenica a tutti, sentite che la voce non è ancora eccezionale, spero comunque si riesca a sentire il commento a questo video. Ci mettiamo in ascolto del Vangelo che la liturgia ci regala per questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che aveva fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso il luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Un testo molto breve, tra l'altro nella costruzione dell'anno liturgico. Noi ascolteremo poi domenica prossima il racconto della moltiplicazione dei pani nella versione di Giovanni e poi ascolteremo il discorso sul pane di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Ecco questo testo sarebbe l'introduzione all'episodio della moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Marco. Poi invece la liturgia è un po' anche perché il Vangelo di Marco è il più breve e per dividerlo nelle 34 domeniche del tempo ordinario ne avanzavano alcune e quindi c'è questa incursione di alcune domeniche sul Vangelo di Giovanni. Però è interessante no? Stiamo entrando in questa sezione del pane dell'Evangelista Marco e questo episodio della moltiplicazione dei pani nasce dalla misericordia di Gesù che vede le folle, che decide loro di insegnare, che sta con loro. Ecco è veramente una sintesi di quello che noi facciamo anche andando all'Eucaristia domenicale, stiamo andando a compiere un dovere, ma stiamo partecipando della compassione di Gesù che ci dà la sua parola e che ci nutre con l'Eucaristia. L'Eucaristia è il luogo dove si invera la moltiplicazione dei pani, dove noi ci nutriamo del Signore e dove sperimentiamo la sua misericordia viscerale per noi che siamo, come dice il testo di oggi, stanchi, sfiniti, come pecore senza pastore. Quando si dice stanchi e sfiniti però è questa idea delle pecore che hanno bisogno di un pastore, ecco noi siamo oggetto della cura di Gesù. Ecco questo mi sembrava interessante come cornice. Soffermiamoci brevemente sull'inizio di questo testo. Gesù ha inviato i suoi apostoli in missione, tornano contenti, riferiscono tutto quello che hanno fatto e quello che hanno insegnato e Gesù dice andiamo in disparte. Abbiamo già sentita questa cosa? Beh sì, quando Gesù invia i dodici, quando Gesù sceglie i dodici, l'evangelista Marco dice ne chiamò dodici perché stessero con lui e poi anche per inviarli a predicare e a compiere guarigioni. Ma il primo passaggio, la sorgente dell'identità dei dodici è lo stare con Gesù. Ecco che Gesù li sta invitando in questo momento a tornare alla sorgente di ciò che sono. Lo specifico, anche per gli apostoli, è quello di stare con lui. Ma questa cosa non vale solo per gli apostoli, è davvero lo specifico di tutte le identità cristiane, di tutte le vocazioni cristiane. Noi ritroviamo che cos'è il cuore della nostra identità vocazionale stando con Gesù. Non è solo l'invito ad andare in vacanza, no? Questo che fa Gesù. Ogni tanto capita spesso di sentirlo nelle omelie perché più o meno questo brano viene letto in periodi di vacanze e quando si avvicina, agosto, comunque qualcuno è già in vacanza e allora ecco che Gesù ci invita a stare in vacanza, a riposare un po', che è vero, che è vero. Gesù sta chiedendo ai suoi apostoli smettete di pensare di essere onnipotenti, c'è bisogno di riposarsi, ma la cosa decisiva è che li invita a stare con lui per riposarsi. Il vero riposo non è semplicemente non fare nulla, ma è stare con Gesù e ravvivare il rapporto con lui, la relazione con lui. Quella è la sorgente di tutte le vocazioni cristiane, se perdiamo quello perdiamo veramente non lo specifico di ogni vocazione. Questa è davvero una questione decisiva. Tu scegli qualcosa dal punto di vista vocazionale perché pensi di essere quella tal cosa. Mi sposo perché sono innamorato di questa persona, vogliamo fare una famiglia, divento prete perché vorrei servire così il Signore. Però è anche vero che la vita quotidiana poi ti chiede di fare tante cose e il rapporto tra fare e essere. È davvero un rapporto sottilissimo e non sempre così chiaro, così facile da presidiare, nel senso che uno può davvero perdersi nel fare. Devo fare, fare, fare perché altrimenti sento di non essere nulla. Devo fare, fare, fare perché ho bisogno di essere compiaciuto. Quindi attenzione a questo rapporto delicato. Oppure uno può fare, fare, fare mille cose che alla fine gli piacciono, ma si dimentica chi è. Ecco l'invito di Gesù. State in disparte con me perché possiate scoprire chi siete. Al di là di tutte le cose molto belle che mi avete raccontato e che avete fatto. Ma guai a voi se iniziate a pensare che voi siete ciò che fate. Per certi aspetti è anche vero. Tu non te la canti e non te la suoni se ciò che dici di essere si vede per come lo fai. Ma se inizi a porre una separazione tra ciò che sei e ciò che fai, se ti perdi nel tuo fare, se non alimenti più lo specifico di chi sei, guarda che il rischio di inaridirsi c'è. Magari o te ne accorgi e lo paghi in vagonate di crisi, di fatiche, oppure magari non te ne accorgi e però pian piano diventi arido perché sì, fai delle cose che ti fanno piacere, sì ma stai perdendo il tuo specifico che è il Signore Gesù. Ecco allora facciamolo nostro, no? Questo invito di Gesù a stare con Lui. Fatemi dire la voce mi sta ancora assistendo. Fatemi dire una breve parola, no? Su questa cosa molto bella che le folle vedono partire e capiscono dove va Gesù. Ha fame questa folla, ha desiderio di sentire Gesù, capiscono dove si va a trovarlo. Ecco tante volte penso anche dal punto di vista pastorale se non sia interessante, no? Quest'idea che forse non dobbiamo sempre dare la pappa pronta ma alimentare la fame. Fa scoprire di cosa abbiamo fame. Quando la folla capisce, ha desiderio di Gesù, si mette a cercarlo. Il problema è che noi tante volte diamo un sacco di risposte a domande che non ci sono e allora uno non trova nulla anche se non ha neanche bisogno di mettersi a cercare il Signore, no? Invece questa folla che è affamata cerca il Signore, ha voglia di stare con Lui, capiscono dov'è, sanno fiutare l'aria per capire dove andare, no? A cercare il Signore. Mi sembra davvero una strategia pastorale interessante, curare i desideri e fare intravedere che lì dentro c'è Gesù che è disposto a dire una parola importante sui nostri desideri, ma alimentare troppo le risposte senza la cura per le domande va a finire che non c'è nulla da cercare ma anche nulla da trovare e questa mi sembra una cosa importante. L'ultima cosa, ma non dovevano andare in vacanza questi? Non doveva essere un momento di riposo? Sì, ma quando Gesù scende dalla barca sente una compassione viscerale, non ce la fa a non prendersi cura di queste persone, no? Io ho sempre un po' di dubbio su parrocchie, santuari, dove è maniacale, guardate, che si confessa fino alle 9.45, dalle 9.46 assolutamente nulla, la chiesa parrocchiale aperta, l'ufficio parrocchiale aperto dalle 10, mezzogiorno. Ricordo dei momenti davvero, no? Mi era attristato, era un momento un pochino brutto, avevo davvero desiderio e bisogno, no? Di una confessione, la persona prima era stata dentro un po' tanto tempo ed era arrivata le 11, l'orario della fine, no? delle confessioni, il confessore è uscito e mi dice, torni domani perché è passato l'orario. Sì, va bene, lo capisco, no? Però ogni tanto anche capire va bene, ok, lo so che d'accordo ci sono tutte cose, sì, ma non sei l'unico, fai i conti te, però Gesù non è uno che ha le tavelle, per cui guardate che momento di riposo, via tutti, sciò! La priorità di Gesù è la misericordia, no? Attenzione, misericordia a volte vuol dire che dobbiamo prenderci cura di noi stessi perché se scoppiamo, se andiamo a fondo tiriamo giù anche tutte le persone che si attaccano a noi, d'accordo, questo è vero, però la priorità di Gesù è che quando vede la folla gli si muovono le viscere della misericordia, no? Non è uno che fa un lavoro, non è un mestierante Gesù e così ogni nostra vocazione cristiana, il matrimonio, la vita religiosa, la vita sacerdotale, tutte le mille forme di impegno laicale, non possiamo essere dei mestieranti e si vede dalla misericordia che hai, no? Io dubito di un'autenticità, di una qualsiasi vocazione, se uno non vibra di misericordia per qualcosa che succede nel mondo, non sente, non si informa, non è appassionato perché non stai vibrando nel cuore di Gesù che invece ha come priorità l'annuncio della misericordia del Padre. Grazie per aver seguito questo momento, navigo giorno per giorno in questi giorni, ma spero che adesso passi questa parentesi Covid e grazie anche per tutte le promesse di preghiere che avete messo nei commenti sia per me che per mio padre, se potete vi chiedo di continuare e un caro saluto a tutti, a tutti buona domenica.